Ha probabilmente perso l'equilibrio mentre si trovava sulla scala ed è precipitato a terra, battendo violentemente il capo. Sarebbe questa la dinamica dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro avvenuto in provincia di Brescia. La vittima, Mario Vergine, 68enne di Seniga, proprietario dell'azienda agricola in cui si è verificato l'incidente, su quella scala era salito intorno alle 14 per sistemare una finestra del tetto. Poi la caduta da 3 metri di altezza rivelatasi fatale. A dare l'allarme è stato l'operaio che al momento si trovava con lui. Nonostante i sanitari siano arrivati sul posto immediatamente, per il 68enne non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata nella cappella di Seniga in attesa dei funerali. Quello di Mario Vergine è già il secondo infortunio mortale registrato nell'ultima settimana in provincia di Brescia. Proprio ieri la comunità di Flero si stringeva attorno alla famiglia di Nicola Battagliola per dare l'ultimo saluto alle 28enne morto mercoledì scorso in un'azienda di Poncarale, sempre a seguito di un grave infortunio. Secondo la FIOM, resta ancora molto da fare per arginare la piaga dell'insicurezza sui luoghi di lavoro. Stando ai dati forniti dall'Inail e nella nostra provincia, da gennaio a novembre dello scorso anno, sono state poco meno di 19.000 le denunce per infortunio sul lavoro, 6.000 in più di quelle registrate nello stesso periodo del 2021, così come le morti bianche, 37 nel 2022, 32 nel 2021.